Hanno dello sconvolgente le motivazioni che hanno portato Andrea Marchionni ad uccidere con un solo, freddo colpo di pistola, la cognata Marina Luzzi. Dopo il folle gesto avvenuto nelle campagne di Fossombrone il 25 luglio scorso, il killer è stato ascoltato venerdì dal Jeep di Urbino, nelle stesse ore in cui una comunità intera si stringeva, tra dolore e incredulità, per un ultimo saluto alla giovane mamma. Il giudice Francesca Dorazio, oltre ad aver convalidato l'arresto optando per la reclusione in carcere del 47enne, per tutto l'interrogatorio ha avuto di fronte a sé la follia di un uomo isolato dalla società, che ha elargito dichiarazioni rabbrividenti. Da quanto emerso, Marina rappresentava la sua nemesi, complice, a causa del vaccino fatto contro il Covid, di essere colpevole da due anni del malessere fisico e mentale dell'uomo. Stanchezza, problemi all'orecchio, dolore alle gambe, bruciature alla testa e insonnia. Tutte complicanze, a detta di Marchionni, dovute all'inoculazione del vaccino da parte della donna e della sua appartenenza alla massoneria. Marina era il suo incubo invalicabile nella sua mente contorta. Turbinio di malesseri che il cognato ha deciso di porre fine premeditando la morte della compagna del fratello, attendendo il momento in cui fosse sola in casa.